Ciao e bentornato in questa rubrica in cui parliamo di tarocchi, oracoli e andiamo a vedere insieme queste carte, a capirne l'energia e a fare anche una lettura interattiva. Quindi oggi vi parlo di un mazzo di carte che io amo tantissimo. Ti dico subito che se ti piace questo tipo di video puoi mettere il follow sul canale e spuntare le notifiche su tutte così ti arriveranno tutte le notifiche relative a questo tipo di video e anche altri. Allora andiamo a vedere questo mazzo che io amo veramente tantissimo e che è il mazzo dell'Arcangelo Michele. Io mi sento molto legata all'Arcangelo Michele, porto anche una collanina sempre al collo, non riesco a fartelo vedere, però è proprio per me una protezione importante, tant'è che per esempio se conosci il mio sito forse avrai anche attivato l'attivazione energetica che io propongo che è proprio legata all'Arcangelo Michele. Se non la conosci ti lascio comunque il link così poi se ami questo tipo di energia puoi andare a capire di che si tratta. Allora questo mazzo è sempre un mazzo di Dorin, te ne farò vedere molti perché io ne ho tantissimi e secondo me si prestano moltissimo ad andare a lavorare su di noi su diversi aspetti. Ovviamente ho anche tanti altri mazzi, te li moscerò, però quelli di Dorin praticamente li ho quasi tutti, forse me ne manca giusto qualcuno che andrò presto ad integrare nella mia collezione. Quindi aspettati di vedere tanti mazzi di Dorin e come tutti i mazzi di Dorin troviamo sempre la scatola in cartoncino leggero e il libricino. Anche in questo caso nel libricino abbiamo sempre la stessa preparazione in cui appunto ci spiega come andare a preparare il mazzo e poi andiamo a trovare il significato delle carte, quindi per ogni carta tu troverai, ci sono più contenuti in realtà rispetto ad altre carte in questo mazzo, hai il nome della carta, la descrizione della carta e poi anche dei significati specifici e la preghiera. Per esempio prendiamo questa e tu hai cercato questa situazione, bisogna andarla a cercare perché sono in ordine, in realtà in ordine alfabetico, quindi andiamo qui e tu hai cercato questa situazione, quindi la preghiera che trovi qui è quella che trovi nella parte bassa della carta, in questa zona. Poi invece c'è un significato aggiuntivo, quindi sono dei significati aggiuntivi che possono derivare proprio dalla lettura intuitiva, se vuoi farla tu, ma se sei all'inizio puoi andare a vedere anche i significati che la carta ti dà. La preghiera diventa proprio uno strumento per andare a lavorare sulle energie, su queste energie, e quindi il consiglio che ti arriva dall'Arcangelo Michele lo puoi utilizzare intanto per andare a comprendere meglio, ma poi puoi andare a recitare questa preghiera proprio perché questa preghiera va a trasmutare, va a farti interiorizzare il contenuto e quindi puoi andare a recitare questa preghiera più volte, se senti la necessità di farlo, puoi portare con te la carta, cercando di non rovinarla, portarla con te durante la giornata, perché questo ti protegge. L'Arcangelo Michele sappiamo essere un Arcangelo, il Principe degli Arcangeli, ed essere una grande protezione per noi, quindi è importante che andiamo a sfruttare la sua energia per poterci far aiutare. Ricordiamo sempre che gli angeli ci possono aiutare solamente se noi glielo chiediamo, ok? Quindi chiediamo, 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 loro sono lì per noi, e non vedono l'ora che andiamo a chiedere a loro il loro aiuto. Allora, quello che andiamo a fare adesso è fare la lettura interattiva. Quindi, il mazzo va bene per te se stai cercando un sostegno, protezione, e un messaggio che ti faccia comprendere come puoi sentirti protetto, schermato e sostenuto. È un mazzo che secondo me tutti dovremmo avere. Io chiudo tutte le mie letture angeliche con una carta tratta da questo mazzo e trasferisco la, oltre che il significato, anche la preghiera che arriva, perché so essere uno strumento di lavoro molto importante su di noi. Allora, ti faccio vedere le varie pietre che potrai scegliere, quindi la crisocolla verde, poi vado a scegliere questa qui, che mi piace tanto, sempre, la calcite arancio, e poi andiamo a prendere un'acqua marina, una bellissima acqua marina, eccola qua. Quindi, ora vado a mescolare e potrai scegliere la carta che ti attira di più. Puoi pensare, in questo caso, ad una situazione particolare oppure puoi accettare semplicemente il consiglio. Infatti, io questo mazzo lo utilizzo anche così per pescare una carta giornaliera e per capire che cos'è che devo sapere da parte dell'Arcangelo Michele e come mi può sostenere lui in quella giornata. Quindi, se hai una domanda, puoi farla, sono legato a una situazione, se non hai una domanda, puoi accettare semplicemente il consiglio che ti viene dato dall'Arcangelo Michele. Intanto tu fatti attirare dalla carta che ti richiama, dalla pietra che ti richiama, che ti hai già magari richiamato, quindi puoi scegliere tranquillamente la pietra che ti attira, che ti piace, che ti risuona di più. Partiamo dalla pietra verde. Il messaggio è prendi le distanze dalla situazione e la preghiera dice Arcangelo Michele, ti chiedo di usare la tua spada infuocata per recidere ogni legame con la paura e i drammi affinché io possa essere consapevole che la pace ovunque, dentro di me e in questa situazione. Questa carta ci dice prendi le distanze. Cosa vuol dire? Vuol dire che hai bisogno di staccarti dalla situazione e infatti puoi immaginarti proprio la spada mentre leggi questa preghiera, la spada infuocata, io me l'immagino infuocata di blu, che taglia tutti i legami con le situazioni che ci creano paura, che vanno ad abbassare le nostre energie perché ci tengono legati e che non ci permettono di evolvere. Quindi quello che devi fare se hai scelto questa carta è proprio allontanarti dalla situazione. Se c'è una situazione che ti fa soffrire questo non vuol dire che ti devi allontanare fisicamente ma puoi anche decidere di farlo. Non è necessario se non puoi farlo ma energeticamente. E quindi chiedendo all'Arcangelo Michele di fare questo lavoro per te visto che lui ti ha detto di prendere le distanze immagina proprio questi legami energetici che si staccano che si tagliano che vengono tagliati dalla sua spada. In questo modo avrai l'opportunità proprio di vedere le cose diversamente. Voglio farti vedere anche una cosa prendendo il libretto. Allora prendi le distanze qui nel libretto ci viene data una spiegazione e poi ti dice possibili significati specifici non intrometterti nell'illite degli altri lascia che risolvano le cose da soli si è compassionevole senza farti carico dei problemi degli altri chiedi all'Arcangelo Michele di purificare la tua energia è il momento di abbandonare una relazione o una situazione negativa. Questo per farti capire che in base alla situazione che stai vivendo saprai a cosa riferirti. Qui ci dà alcuni esempi ci dà alcuni esempi che potrai magari relazionare la tua situazione magari ti potrai rivedere ma sicuramente se hai scelto questa carta tu saprai per cosa l'hai scelta magari hai fatto pure la domanda. Il libretto ti è di aiuto come ti dicevo soprattutto se sei all'inizio e se stai magari leggendo questa carta per una persona che conosci e magari non hai capito bene la situazione potresti dare dei esempi alla persona su cosa può tagliare prendere le distanze tagliare diciamo con la spada della situazione. Può essere anche cambiare una relazione sì ma chiudere una relazione ma anche cambiare il tipo di lavoro proprio prendere le distanze è fondamentale scegliamo cioè vediamo ora cosa ci dice la pietra arancione lavoro di guarigione energetica grazie per mandare energia di guarigione verso di me e attraverso di me per il mio bene per tutti quelli che mi circondano grazie per mettermi in contatto con guaritori insegnanti di tecniche di guarigione energetica amorevoli e di grande integrità allora se ti è uscita questa carta è perché probabilmente hai bisogno di guarigione e l'arcangelo Michele ti sta dicendo se tu chiedi ti arriva quindi in questo momento se senti bisogno di guarire una situazione che può essere un malessere fisico emozionale ma può essere anche una come dicevamo una relazione una situazione se c'è bisogno di andare a sanare quella situazione non devi fare altro che chiedere all'arcangelo Michele e lo stai facendo recitando la preghiera di mandare a te l'energia giusta e le persone che ti possono aiutare quindi che ti possono aiutare con un trattamento con una lettura con della formazione che ti possono aiutare a capire ci sono diversi modi per guarire alla base c'è sempre la consapevolezza quindi in realtà quando tu stai facendo una guarigione energetica in realtà ti stai mettendo in moto un percorso un processo energetico che ti porta alla consapevolezza arriviamo sempre lì se stai facendo una lettura è perché riceverai delle risposte che ti daranno consapevolezza e quindi la stai facendo in certo modo in questi due casi in modo passivo se stai facendo un corso stai attivando un'energia come nel caso delle attivazioni stai in qualche modo facendo il lavoro in modo attivo ti chiamano attivazioni non peraltro e stai cercando tu stesso di comprendere quali sono le vie per arrivare al risultato e quindi al tuo obiettivo quindi questa questa carta ti sta dicendo di di chiedere per la guarigione perché la guarigione è lì è a disposizione e l'arcangelo te la può dare nel tuo caso te la può dare perché ricordiamo che anche se noi chiediamo la guarigione non è detto che arrivi sempre alla guarigione perché magari quella situazione difficile dal punto di vista della legge di causa-effetto quindi della legge del karma è importante per noi per portarci a uno stadio evolutivo superiore in questo caso invece tu la guarigione in questo momento la puoi chiedere vuol dire che hai grazie a questa situazione l'opportunità di comprendere delle cose attraverso la guarigione e poi passiamo all'ultima carta se hai scelto l'acqua marina dice un esito favorevole grazie per il magnifico esito di questa situazione che è perfetto e giusto per tutte le persone coinvolte ti ringrazio arcangelo Michele perché mi aiuti a fidarmi ed avere fede quindi in questo caso se hai posto una domanda o stai chiesto un consiglio per un momento del momento della tua vita e comunque stai conducendo in qualche modo una situazione da un po' qualcosa che ha appena anche iniziato ti sta dicendo l'arcangelo Michele che c'è un esito favorevole che le cose andranno importante esito favorevole vuol dire andranno ho messo la telecamera scusate vuol dire che andranno così come devono andare esito favorevole non vuol dire che andranno come voglio io è molto importante questa cosa perché spesso noi crediamo che esito favorevole voglia dire le cose vanno così come voglio no in realtà le cose esito favorevole vuol dire che le cose vanno come devono andare perché noi non conosciamo il disegno totale del creatore del creato dell'uno dell'energia universale non sappiamo in realtà cosa ci aspetta domani e non sappiamo che magari un evento che apparentemente è sfavorevole in quel momento in realtà ci porterà a esiti meravigliosi questo mi è capitato tantissime volte nella vita tantissime davvero e quando vado a dirlo sono fermamente convinta di questo e quindi trasferisco questa energia di comprensione cioè di voglio proprio far comprendere questa cosa alle persone perché in realtà quello che ci sembra un dramma magari un determinato momento è un qualche cosa di positivo poi magari invece l'esito favorevole è proprio nella direzione che tu vorresti quindi hai avuto la giusta intuizione ma sappi che quello che si sta per realizzare quello che vedrai questo è importante sarà un esito favorevole quindi sarà un qualcosa che ti porterà a uno step successivo positivo quindi anche se vedi che stai vivendo una situazione e vorresti una determinata cosa e quella cosa non si realizza sappi che quello è l'esito favorevole è questo che ci sta dicendo questa carta ci sta dicendo che quello che succede subito dopo è la cosa giusta quindi anche se per esempio ti faccio questo esempio stai vivendo una relazione ti sei lasciato con una persona e quella persona non ritorna quello è l'esito favorevole perché probabilmente subito dopo ne incontrerai una che per te è molto più importante magari non è una relazione karmica ma una relazione di anime gemelle se non hai visto questo video ti consiglio poi di dare un'occhiata perché molto spesso questa carta esce anche nelle situazioni amorose quindi queste sono le risposte dell'arcangelo Michele come vedi i messaggi sono in realtà lo noti anche si nota tanto se utilizzi questo mazzo alla fine di una lettura come faccio io nelle letture angeliche perché lo noti perché capisci che proprio quella carta è sempre puntuale sempre centrata dà sempre una risposta in più conclusiva ed è bellissimo quindi ti consiglio proprio di avere questo mazzo se utilizzi per te per gli altri le carte altri tipi di oracole le carte soprattutto se fai consulti angelici per te per gli altri e se utilizzi le carte angeliche perché ti renderai conto di quanto sia sempre precisa puntuale e forte anche perché i messaggi che ci vengono dati sono sempre messaggi forti in queste carte ma sono sempre messaggi che ci aprono a qualche cosa di nuovo spero che ti sia piaciuto fammi sapere quale quale carta hai scelto se questo mazzo piace anche a te tantissimo come piace a me e se già ce l'hai se lo utilizzi come lo utilizzi per darci anche delle idee grazie a presto e al prossimo video ciao